e salve a tutti ragazzi eccoci qui tornati con un nuovo episodio di the last of us parte 1 come al solito ringrazio per i like per il tempo di visualizzazione guardate i canali che vi metto sotto in descrizione adesso andiamo avanti siamo usciti da quel seminterrato questo l'avevamo già sentito e adesso abbiamo ellie dall'alto che ci copre e dobbiamo appunto cercare di superare questa zona allora tanti di voi soprattutto in uno shorts tanti insomma alcuni mi hanno detto che non hanno mai giocato the last of us e che ellie gli sta un pochettino antipatica anche a me direi che ellie non è che mi è suscita tutta sta simpatia però è comunque un carattere forte cioè è tutto quello che non vorrei in una ragazza però anche se lei comunque è ancora giovane è ancora piccolina però ve ripeto non è proprio sta freccetta in mezzo ok non è proprio il top in quel senso lì cioè nel senso è molto sta lì è molto pedulante e porca miseria guardate c'è sta sto tipo chi t'ha visto e chi t'ha mori buonanotte spuntato a caso del tipo così vediamo se riesco eh no 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 scendi 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 dal trespolo adesso devo cogliere quello alle spalle perché sennò ci fa tipo la festa la festicciola ragazzi ci fa questo se te muovi joel tu non hai visto niente giusto assolutamente niente eh vabbè oh la terza guerra mondiale oh è diventata sta zona call of duty vabbè ragazzi questo è stato l'approccio alla call of duty ma lui è qui dentro ma già scala no con quella joel diciamo tendenzialmente non si riesce a far non riusciamo a fare nulla no 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 dove vai ok ok eh purtroppo vedete quest'arma va anche bene ma dovete essere discretamente precisi porca troia porca troia se dovete essere precisi bene scendi eh un bordello abbiamo fatto va benissimo un bordello clamor un casino un macello vabbè siamo stati discretamente fatemi sapere secondo voi quanto casino ho fatto da 1 a 10 scrivetemelo nei commenti e se secondo me si poteva fare diversamente secondo me si poteva fare diversamente ma andava bene vabbè so fatto scopri ok ci siamo convinti a dargli un'arma con quelli è stata brava dai allora ragazzi io direi che per questo episodio è tutto ci siamo divertiti a sparacchiare ok ragazzi quindi ci lasciamo qui come al solito in video iscrivervi al canale lasciate un bel like commentate condividete attivate la campanella di notifiche non perdervi gli altri video e supportare serie e canale vi ricordo i miei appuntamenti su twitch con il just chatting del martedì del giovedì e della domenica dalle ore 22 21 e 45 più o meno just chatting sul mondo dei videogiochi notizie insomma tante cose interessanti sempre inerenti al mondo dei videogiochi venite a dare un'occhiata se volete discutere con noi e ragazzi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti